Mancano tre giorni alla sfida contro la Fiorentina, oggi è il turno di Pedro Pereira che risponderà alle domande inviate dai giornalisti. Iniziamo dalla prima, nelle ultime due uscite sei stato uno dei principali protagonisti. Assista a Messias con Verone e hai proponizzato il vantaggio contro il Benevento. Sì, sono felice di poter aiutare la squadra e sono felice di dare il mio migliore per fare con che tutti quei lavori che facciamo abbiano un valore. Secondo me se tutti mettiamo qualcosa in più che tutti abbiamo togliamo sempre delle belle soddisfazioni. Siete reduci dalla vittoria di domenica che avrà sicuramente dato morale e fiducia a tutti voi? Sì, è stata una vittoria molto importante, ci ha mantenuto vivi per il campionato e dobbiamo continuare su questa strada, sempre insieme, sempre uniti e a fare i punti. Il tuo ruolo è anche abbastanza dispendioso sulla fascia, sono tanti i chilometri che percorri durante le gare? Sì, tutta la squadra ha un livello fisico altissimo e lavoriamo sempre molto bene, siamo moltissimo bene preparati e durante le partite riusciamo a togliere tutto quello che lavoriamo durante la settimana e a fare prestazioni a livello fisico molto buone. Per chiudere, tra pochi giorni si va a Firenze con il viola che sono reddici dalla sconfitta di Napoli, che gara ti aspetti? Una gara molto difficile come tutte le altre, perché per noi ha il valore di tutte queste gare che abbiamo fatto fino adesso e sempre provando a mettere qualcosa in più in campo, sia qualcosa individuale, collettivo o anche di carattere in più, perché contro una squadra forte e storica come la Fiorentina mi aspetto una gara molto difficile da quale dobbiamo fare sempre il nostro migliore con la massima attenzione per portare a casa un risultato positivo.